buongiorgio a tutti ragazzi proprio come voleva Nick Ritz che voleva iniziare il video con buongiorgio a tutti quindi se siete Giorgio questo qui è un canale mezzo dedicato a voi esatto buongiorgio a tutti io spero che non ci siano sputtanate tutte le cose perché abbiamo chibiato mappa è finito non l'abbiamo controllato no dai non so ah no le cose no io pensavo i video cosa no e sai che quello che ci taglia all'inizio solo playstation quello che è l'unico gioco che mi dà questi problemi mi taglia all'inizio del video si dà problemi anche a metterlo dentro perché ma io c'era mentre dentro il disco di quello che non parte cosa non va porca putt vediamo adesso e cominciamo a pugni di nuovo allora si ci ho sperato male non so un cazzo di stamattina ah io neanche così siamo tutti dai miei pari bene ah si sta qua ah ma guarda si camperà bene ah no forse ho una maledetta idea oh mio dio oh mio dio sentite il mio cuore che batte forte è il richiamo del camperaggio che cazzo ha un cecchino quello lì vabbè ragazzi sono già morto mi hanno fatto forse blood su di me oh mio dio oh mio dio è il sogno di ogni camper questa mappa perché oh mio dio guarda qui quanta copertura sui bordi abbiamo tutta la visuale aperta sul centro della mappa ah non c'è una sega eh appunto io l'ho fatta apposta così tu non puoi passa vabbè fate uccidere c'è un bot che c'ha 8 punti e noi tutti siamo a zero si e adesso però ti shotano con un colpo con una gomitata di giro perché non cooperiamo amichevolmente no ah vero cerchiamo troppo che tutti contro tutti eh scusa e alla fine del mio maltrattimento non è vero si rispetto ai patti si eh eh il tuo contrario eh il tuo contrario tu hai visto tu trovi qualcosa per sparare? no ah neanche trovo qualcosa che qui spara a me morto uno eh in culo eh dai non trovo una sega meglio ancora oh gioco di merda ecco 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 guardate che roba perché è grande la mappa ecco perché cosa mi stanno sparando vieni qua vieni qua Dio buono ti sfido la mia suonare eserfetto è un fetto oh che merda mi sta suonando il telefono aspettate un attimo ah no è un messo è whatsapp ok si è mia madre niente guardate che cazzo ragazzi guardate che cazzo si ma io non ho già il cc4 eh ma io non ho ancora trovato nessuno hm questo mi fa piacere gioco di merda sai perché non è per campo Dio buono vieni qua Dio buono non scappare porca troia bastava solo trovare me perchè tu morissi ecco qua si va bene non avevo il c4 eh è sul linguaggio segreto vuol dire? no 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 dai ti fai nervosire quando non trova nessuno e quando lo trovi ti ammazzano? no dai si è lo stesso di prima mi ha fatto spawnare davanti a lui sono soddisfatto di questa mappa che mappa di merda esatto a parte due mappe e quelli di caso di utile sono a fare nulla come level design eh che cazzo vorrei uccidermi troia c'è qualcuno mi vuole cazzo ho visto lì quelle fiammelle e pensavo fosse un lanciafiamme che eh cazzo qualcuno mi stai seguendo? no nessuno qui ci sta bene un cuci da pomo perchè non ci sono proprio distanze lunghissime no ma in online c'è tanta gente ma qua non c'è un cazzo su stiamo aperto sta venendo fuori noioso il gameplay ci mettiamo più bot? no lo so che è noioso tagliamo ancora stai sparando? a quelle poche persone che vedo ha le uniche pa... no 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 oh non c'è un cazzo non c'è un cazzo non guarda io vedo qualcuno no mi hanno presagito un cazzo un cazzo sono passato due volte su questa cosa ma madonna la mia ombra non potete sapere che effetto mi abbia fatto non trovo tu pensavo fosse un nemico l'affanculo finito i puntini basta questa è la mia nuova casola cavolo ero sicuro fossi te quello lì oh che cazzo vieni qui sta fermo un po' sta sta con me resta con me dove vai? eh se io sono detto un scemo si mi hai sgamato una volta quella roba lì due volte non funzionerà no merdinski merdonski no 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 ma che guarda tu sei una merda se lo vogliono ritirarti madonna madonna voglio anche io ripiloterare un gippone come questo eh lo stesso gippone che c'era nella campagna adesso l'ho riconosciuto bastardo pensavi di scapparmi eh io sono 8 cioè se vi perdete qui non anche io sono 8 ma dai ma ahahah no meritavo io no ti ho visto prima non ti meritami una sega a te no no mi spiara a noi bello che qua non puoi neanche non puoi neanche screencitare perchè non capiamo un cazzo della mappa merda ahahah ti ho preso in faccia e me ne vanno mi hai preso la culo e che sono debole ora ok mi ho smesso oh mio dio camper post no no oh mio dio che culo vaffanculo vieni qua vaffanculo vieni qua tuo culo appartiene a me ora non funziona nooo 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 così infatti non funzionano abilità oltre i muri eh ma ma là c'è solo un muro che ci separa no vabbè ma stabilità di solito ti ammata anche se sei oltre il muro eh no bene vendetta oh mio dio ragazzi stra combattuta abbastanza altri 4 minuti vabbè è un po' io noiosino però ma io mi sto divertendo cioè le esse magari quello lì mi ha sparato fin da lì con un fucilato senza neanche un mirino oddio buono senza neanche un mirino ah guarda cosa fa questa puttana eh cerca di scappare da me ma dai cosa stai facendo stai cercando di scappa quasi quasi mi ammazzava 12 pali figlio della merda figlio della merda figlio della merda ah aveva il mitraglione che sparava sei colpi alla volta eh no mi ha ucciso però lentissimo come un fucile lentissimo ma stai qua se passi in mezzo alla strada sei scopertissimo sei proprio nella merda eh sì ma sai di che parla cazzo cosa 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 ma dio bono un'arma di merda via ma cosa che meritavo io che mappa di merda io mi sento paranoico devo c'era competizione con i kriz e ciò mi fa sentire paranoico esatto uno di qua tracce vediamo se ti porterà da me forse ragazzi quando troviamo qualcosa qui sparare vi chiamiamo va bene ok che cazzo mi sono anche per non lo capisco niente non si capisce un cazzo qua tracce di tracce qua ma il mago forse si e sai muori bel dreck si ragazzi sto scrincitando eeeh non meriti la vita oh mio dio si però non è che sei lontanissimo mister L sta non è che sei lontanissimo da me mister L si fa sentire eh anzi meglio il fucile di mister L si fa sentire per i kriz ahhh merda quanti ribotti abbiamo messo sei bene io non trovo neanche uno ok mamma mia ha spuntanato tutto eh no non meriti di vincere hai già che l'hai shottato proprio perché era come dire eeeh ahhhh ahhhh ma no c'era un altro c'era un altro troia muori troia muori ma chi sta sparando ma chi sta sparando oh mio dio oh mio dio oh mio dio no non sono un bot oh mio dio avete visto che roba ma quanti quanti sono quanti sono vieni qua vieni qua filo dello schifo dai Com'è? È scappato dal DC4 Eh vaffanculo Ho resistito Non lo so Non so come di scrivere quello che ho appena fatto Eh ma dai Arma di merda Vedute le armi sono una merda Qua o è l'arma di merda o la mappa di merda Oppure non la metterà Ok l'abilità di merda è qua Eh ma l'ho mancato Ma che merda di arma schifosa Dio buono Guarda abbiamo andati 35 secondi Se mi recuperi da provare che Dio è cattivo No Sembra una mezza bestemmia Eh non ce la faccio Perché uno mi cambia Perché uno cambia dall'altra parte e mi vede A meno che non me ne trovo tre davanti che sono tutti girati No 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 4 perché il 21 devo fare No eh sorry sì 5 adesso Eh vaffanculo che volevi ai botock Eh io voglio rifarci Arriba Alla lunga mi va divertito Alla lunga fa schifo Alla lunga Alla lunga Ma lo ho appena uccisi Alla lunga No 2015 No Quanto quanto ha distanza Tovаютi di 9-20 Ma perché non trovavo una Sega io Anche la ultima kill Perché io trovavo tutto ah mi sta credendo il joystick per vedere la vibrazione, era sul mio ginocchio guarda che qui mi ha sparato pari in culo si è vero e perchè il mio joystick, anche tu continua a vibrare? no il mio joystick continua a vibrare non mi di sul tavolo mi sto massaggiando la faccia con il joystick stai rompendo il joystick con la faccia si è la battuta di nini kriz giochiamo a distruggere i loro pugni con la nostra faccia rifaciamola con più botte no tanti botte noi due assieme quanti gameplay abbiamo fatto oggi? uno eva no ok dai finiamola qui e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti